Si è chiuso con un nulla di fatto il confronto tra i protagonisti della vertenza Ariello di Cepagatti, che ieri presso la sede di Confindustria di Chieti Pescara ha riunito ancora una volta al tavolo sindacati e azienda. La procedura di licenziamento collettivo dei 71 dipendenti e il trasferimento di altre 19 negli stabilimenti Veneti e Lombardi del gruppo va dunque avanti verso la chiusura dello stabilimento di Cepagatti, ma la battaglia dei sindacati entra ora nella fase amministrativa che coinvolgerà più da vicino anche la regione. Alessandra Tersigni della FIOMA CGL di Pescara. Ieri abbiamo avuto l'incontro a Confindustria che di fatto si è concluso con un verbale di mancato accordo che già avevamo previsto perché comunque se la loro posizione è sempre la stessa di non ritirare licenziamenti noi andiamo dritti per la nostra strada e quindi abbiamo necessità di spostarci dalla fase sindacale che si è chiusa ieri alla fase amministrativa dove il tavolo si arricchisce gli altri personaggi quindi ci sarà anche la regione che ha delle responsabilità e dovrà richiamare l'azienda alla sua responsabilità sociale. Adesso tutti gli attori dovranno lavorare anche su questo versante qui, la reindustrializzazione nel caso di ammortizzatori sociali ma non accettare che in 30 giorni chiudiamo la procedura così. Riccardo Anunziato della Wilm Will di Chieti Pescara, quale scenario dunque si apre a questo punto anche per i lavoratori? L'azienda è stata ferma, non tornerà indietro e che il sito di Pescara verrà completamente chiuso. Con l'ennesimo mancato accordo di ieri si aprono il nuovo scenario con un tavolo alla regione dove praticamente dovremmo entrare nel merito della trattativa, della questione. Noi chiederemo naturalmente un sostentamento in più per i lavoratori con una cassa in deroga, il decreto Genova che permetterà loro di sostenere sia loro che le loro famiglie. Avete avuto notizia di qualcuno che è interessato effettivamente a rilevare il sito? Ufficiosamente Confindustria ci dice che qualche imprenditore ci sia in zona interessato però naturalmente noi aspettiamo l'ufficialità della cosa per sapere chi sia questo imprenditore ma soprattutto che intenzioni ha perché anche lì in fase di trattativa naturalmente noi metteremo degli obblighi al nuovo imprenditore che dovrà ricollocare se non tutti ma una gran parte dei lavoratori che resteranno senza lavoro. Venerdì 15 ottobre intanto il segretario nazionale della FIOM CGL Maurizio Landini parteciperà all'assemblea che si terrà alle 12 davanti ai cancelli dell'Ariello di Cepagatti. Sarà un'assemblea pubblica dove abbiamo invitato anche i delegati di altre vertenze quindi ci saranno anche i lavoratori dell'Abrioni e ovviamente l'argomento sarà molto più allargato sulla delocalizzazione che è il tema del momento, sulle vertenze che il territorio sta vivendo di certificazione di fatto di impoverimento di tutto il territorio.